Dal 1 ottobre tutte le imprese lombarde operanti nel settore edilizio si sono dotate di una patente a punti contro gli infortuni. La misura, introdotta dal nuovo articolo 27 del testo unico della sicurezza, prevede dei benefici per le imprese che si dimostrino virtuose nell'ambito della prevenzione dei rischi sul lavoro e sanzioni e perdita di punti in caso di infortuni o episodi di negligenza. La patente, che interessa migliaia di imprese in provincia di ha incontrato lo sfavore nella maggior parte degli artigiani coinvolti che lamentano da tempo le difficoltà connesse alla massiccia burocratizzazione dei processi lavorativi. È una patente come quella automobilistica fondamentalmente per cui l'artigiano edile ma anche di altri settori della filiera a casa che entra su un cantiere deve essere in possesso di questa patente che avrà un minimo di 30 punti per poter operare su un cantiere. Gli infortuni possono partire anche casistiche più importanti con anche arrivare alla sospensione della patente fino a 12 mesi. Se però viene ovviamente accertato dopo un iter giudiziario anche una colpa grave del datore, del titolare. Hanno vista come un obbligo e un adempimento in più. Quello che comunque sto cercando di dire a tutti e rassicurargli è che gli obblighi erano già quelli previsti dal decreto 81 del 2008 per cui chi era regola a posto prima lo è anche adesso e non c'è nulla di cui temere. Certo è sì è una pratica in più da fare su un portale con la propria speed e magari qualche imprenditore non è particolarmente avvezzo o comunque lo vede come un adempimento burocratico che si aggiunge a quelli già presenti. CNA all'inizio si è sempre un po' opposta a questa patente perché non sembrava proprio lo strumento idoneo per poter bene diminuire le morti sul lavoro. Altri strumenti sicuramente l'importante è aumentare la cultura della sicurezza lavoro per cui far capire alle persone agli imprenditori quanto sia importante rispettare queste regole appunto legate al decreto 81 perché gli operatori possano lavorare in sicurezza e non avere infortuni.